Ciao Luca, ci sei? Ciao, ciao Marti Scusa l'ora, ho visto il risveglio ma no, è che non mi riesce a dormire che inizia a essere un po' preoccupato da questa situazione e niente, mi volevo un attimo confrontare con te Eh, no no, tranquillo tanto io sono sveglio Guarda, secondo me dobbiamo soltanto stare un attimo tranquilli tanto siamo tutti nella stessa situazione l'importante è mantenersi con i piedi per terra non farsi prendere di strada la cosa in questo momento C'è pienamente ragione Dai, vabbè, nulla ci si sente domattina per la call Eh, va bene, a domani Ciao, buonanotte Ciao, ciao